Buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Chiavexierra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega, in salita verso Monte Zuccone, Italia Lima Golf 322, attivazione sotto. Il tempo non è dei migliori, ma ci si trova. Il tempo non è dei migliori, ma ci si trova. Il tempo non è dei migliori, ma ci si trova. Il tempo non è dei migliori, ma ci si trova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Sicusota Oh zio mucca mi arrivi a bomba Italia Zulu 5 Giuliette Lima Foxtrot mi arrivi a fondo scala QSL Sono contento ogni tanto fa piacere e con i fieri sono le solite una decina di watt per il Z4 Victor Quebec Sierra e il Z5 Giuliette Lima Foxtrot Roger le passo la referenza Italia Lima Golf 322 Monte Zuccone innevato QSL QSL perfetto grazie Alessandro faccio qualche spot strada faccende ciao buon divertimento Ciao buona giornata ciao Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee Perfetto Italia Kilo 2 Lima Eco Yankee Oggi è la giornata che i contatti più più disturbati le volte precedenti adesso arrivate a bomba A te il cambio Sì ciao Alessandro buongiorno arrivi abbastanza bene il 5 e 5 visto che il caffè non è proprio il massimo a te Eh Roger però sta affiorando un pallido sole dalle nubi ma pallidissimo Eh referenza Italia Lima Golf 322 ok Perfetto grazie mille adesso 5 e 7 c'è un po' di QSB Comunque arrivi bene complimenti buon divertimento un po' di attivazione e buon file up ciao Alessandro Ciao 73 Roger Roger my friend Delta Kilo One Hotel Kilo Uniform QSL 73 5 9 for you 5 9 thank you bye bye Quartzette Allora Sierra 5 6 Romeo Papa Juliet is correct Buongiorno Manuel Eco Alpha 2 Delta Tango 5 9 QSL Ciao Manuel è un piacere risentirti a tutte le attivazioni ciao Ciao 73 QRZ Zulu Milano avanti Roger Oscar November 7 Zulu Mike 5 9 QSL Ciao Ciao 73 QRZ Roger Echo Alpha 2 Charlie Kilowatt X-Ray Roger Echo Alpha 2 Charlie Kilowatt X-Ray 5 9 Equipo 5x9 Non in Alessandro Uri 4 5x5 5x5 723 723 my friend bye bye QRZ 724 534 724 727 727 828 828 927 928 1129 Thank you, 73. Oscar November 3, Yankee Bravo, 5-9. Roger, Roger, good morning, my friend. 5-5, excuse me, 5-5. Good luck on the summit over there. Bye-bye. Bye-bye, 73. Ciao. Delta November. Oscar Eco 5, Hotel Delta November is correct. Oscar, 8-5, Hotel Delta November is correct. Sorry, my friend. Many, many. QSB, Oscar Eco 5, Hotel Delta November, 5-8-5-9. QSL? 73, bye-bye. Eco Alpha, over. Italia, Zulu, 4, Victor, Quebec Sierra. Sotto. Eco Alpha 5, Florida, Papalima. QSB. Eco Alpha 5, Florida, Papalima. 59, QSL. QSB, buona segura. Ciao, 73. Italy, Zulu, 4, Victor, Quebec Sierra. Portano il QRP. Sì, QSB. Sotto. Italy, Uniforme 2, Hotel, eco, eco. QSL, QSL. Buongiorno, buona attivazione. Ciao. Ciao, 73. Buona giornata. Spero più calda della mia. Speriamo. Ecco Alpha 3, eco. Bravo, Japan. 5, 5, 5, 6, 2, 3, 3. Sotto. 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 Ciao, grazie a te. Buona giornata. Italia Kilo 1, Whisky, Eco Golf. Ok, Italia Kilo 1, Whisky, Eco Golf. corretto? Deltalima please stand by Italia Kilo 1 Whisky Ecogolf corretto? Sì Italia Kilo 1 Whisky Ecogolf buongiorno 59 vai 59 anche per te referenza sotto Italia Lima Golf 322 QSL ciao grazie e please delta lima over delta lima 8 complete your call thank you roger roger delta lima 8 delta x-ray lima 5859 your report reference sotto italy lima golf number 322 QSL QSL buongiorno buongiorno thank you very much 575 595 QSL QSL thank you for 55 thank you bye bye in 73 whisky india whisky india over roger delta lima 2 hotel whisky india QSL good luck thank you my friend your report is 5859 thank you bye bye india x-ray 1 india hotel radio perfetto india x-ray 1 india e scusami mi sono impappinato dal freddo ripeti scusami india hotel radio italia x-ray 1 india hotel radio 5959 reali referenza sotto italia lima golf 322 QSL 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 buona attività che non prenda troppo freddo ciao ciao 73 buona giornata italia chilometro 2 india lima hotel perfetto italia chilo 2 india lima hotel 5959 reali QSL QSL buongiorno e grazie per il summit 599 anche per te a milano ciao 73 ciao buona giornata grazie allora italia chilo 2 avanti roger italia chilo 2 giuliettango sierra 59 grazie grazie a te ciao italia chilo 6 lima bravo tango 599 anche per te ciao ciao 73 avanti italia uniform 8 scusate avanti italia uniform 8 america zulu sierra roger italia uniform 8 alfa zulu sierra 59 ok stand by è collega della zona 8 vincenzo perfetto italia uniform 8 alfa zulu sierra 59 QSL avanti il collega della zona 8 avanti vincenzo buongiorno alessandro e buona continuazione non prendere freddo mi raccomando no no guarda ci sto attento per mettere a posto il segnale potresti fare un salto su no italia chilo 3 delta radio oscar ok italia chilo 3 delta radio oscar 59 ciao 73 saluto anche vincenzo e ciao incenzo florida over florida 5 japan chilo chilo roger florida 5 japan chilo chilo 59 qsl ok 73 my friend eco alpha 3 over roger eco alpha 3 eco victor lima 5 9 qsl ciao bye 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 ciao xilofono novembre over florida 4 hotel xilofono novembre 5 9 qsl ciao 73 qura z non sento più le dita sicu sota sicu sota sicu sota italy zulu for victor kebex era portable qrp italy zulu for victor kebex era portable qrp sicu sota italy zulu one tango november alfa corretto 5 9 anche per te grazie ciao italia zelanda 1 messico scusami completami il call roger roger guido italia zelanda 1 messico chilo papa 59 59 grazie ok grazie avanti delta florida hotel 5 9 roberto 59 reali e 59 più più ciao 73 grazie a te buon divertimento sto freddo italia qb1 charlie qb1 portatile oh avanti la stazione portatile scusami italia qb1 italia qb1 charlie qb1 roger italia qb1 charlie qb1 baratto portatile 59 qsl ciao 73 qb1 baratto portatile ciao 73 qrz ciao buongiorno dai k0 mike hotel sierra o bene bene valte qsl italia chilo 0 mike hotel sierra 59 grazie ciao italia venezia 3 tango eco sierra roger italia venezia 3 tango eco sierra 59 59 59 nome valte e cutiata portatile 9 ciao mondi ciao 73 ciao walter italia ontario italia ontario avanti ciao madri buongiorno italia whisky numero 8 silofano italia ontario giuseppe 1 più 8 x ilia oscar isemia qsl qsl italia whisky 8 italia x ray novembre scusami italia whisky 8 x ilia oscar qsl ok italia whisky 8 x india oscar 59 grazie grazie a te un abbraccio buona giornata roger italia zulu 0 alfa radio lima 59 ciao alessandro buongiorno 5 9 59 io ti passo la mia referenza del gioco della san michele serramaiche 42 92 e per favore dovete mettere a lunga anche claudio italia 0 chilo taglienchi roger italia 0 chilo taglienchi qsl ciao sono in qrp sono in qrp ok ciao 73 qr z qr z roger foro e whisky bravo november fine roger 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 alfa 3 qr bc america qr bc alfa 5 9 qr buona giornata sarà dura qua comunque grazie ciao oscar november six zulu quebec qsl oscar november six zulu quebec zulu quebec r5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 4 x qr qr 5 8 5 9 you report my friend bye bye 73 roger edelta delta zero victor eco five nine e questel questa il quesale my friend and thank you for four by four thank you bye india azzurro 1 novembre eco mike e qsl ah beh guarda sono al confine proprio mi guardo la la spezia praticamente ciao 73 italia chilo 1 golf e charlie bravo qsl 59 anche per te grazie querezzetta roger oscar chilo chu papa delta tango five nine oscar chilo chu papa delta tango five nine quesale thank you my friend bye bye please summit to summit over sorry my friend i copy hotel bravo nine charlie question mark question mark complete your call questo è il quesale delta lima stroke hotel bravo nine charlie eco victor qsl thank you my friend roger oscar chilo 087 correct 73 my friend bye bye oh avanti il sota italia whisky 2 ciao buona giornata cuore di sota colline vicine a bergamo quota 1100 metri 5 watt 95 reali cambio per te ok qui italia zullo 4 victor kebeck sierra poi mi completo il call che non ho fatto in tempo a scriverlo io sono a 1.6 e qualcosa in mezzo alla neve e alla nebbia e al vento e al freddo 59 per te avanti pure perfetto ciao 73 anche te arrivi fortissimo arrivi veramente forte ciao 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 allora signori io farei le ultime chiamate perché avrei veramente freddo comunque sicusota sicusota italia tool 4 victor kebeck sierra portatile qrp allora l'antenna ho fissata così un pezzo di stago e un po di neve schiacciata pensavo saltasse fuori il sole ma niente è stato molto veloce ma ragazzi c'è un lumido e un freddo che è irresistibile è fortuna che ho trovato qui il muretto per ripararmi un po' dal freddo